Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle approfitto per informare anche su questo tema che abbiamo trattato anche proprio ieri in Commissione. La mozione ovviamente è stata depositata molto prima, ma è emerso un ulteriore problema, quello delle palestre messe a disposizione o meno dai municipi. Abbiamo avuto l'assessore in decimo municipio che ci ha raccontato che un ritardo è stato dovuto al fatto che inizialmente i dirigenti scolastici non hanno messo a disposizione le palestre, successivamente l'assessore si è attivato sulla base di segnalazioni provenienti dalle associazioni, il che comporterà la riapertura dei termini del bando. Per trattare questo argomento che in Commissione, non solo in questa consigliatura, ma anche in passato e forse anche in quelle precedenti è stato trattato senza aggiungere a una soluzione definitiva, è presente al centro di tavoli una richiesta di consiglio straordinario che abbiamo concordato. Quindi chiunque vuole può firmarla e poi la depositerò al termine della seduta. Grazie.